Ecco mio padre che fa la diputazione del vino. Sa di ovviamente di uva, ma di uva cruda, no cruda, scusate. Di uva secca, di nocciole secche, frutta secca. Un sapore delizioso, ma troppo liscio, troppo liscio. Si muove veramente molto bene. Luvido. Perfetto. Questa è l'imitazione di mio padre che degusta il vino. A presto! A presto!